L'associazione Genitori Torano Nuovo continua a dare risalto anche alle esigenze dei più piccoli. Uno dei suoi obiettivi principali è proprio quello di sensibilizzare all'educazione ambientale i giovani. Per questo i genitori e i volontari sono all'opera, ormai da giorni, per dar vita ad un evento peculiare e idoneo allo scopo. Domenica ci sarà, dalle 10 del mattino, la terza edizione del Cross Bike Park, qui a Torano Nuovo, incontra da Campodino. Un evento ormai al suo terzo anno, ci sono tante belle novità, un'area street food, espositori, il nuovo circuito percorribile anche dagli adulti e chi abbia voglia di cimentarsi con l'off-road. Ci sarà anche un corso mini cross per i bambini dai 5 ai 16 anni e tante altre novità che non sveleremo prima di domenica. E poi tante adesioni anche da fuori, non solo dalla zona. Sì, abbiamo ricevuto preiscrizioni oltre alla provincia di Teramo, provincia di Ascoli, Pescara. Volevo segnalare anche il bellissimo spettacolo di Bike Trial a cura della Nardinocchi Bike Academy. E c'è un ovale nel corso di mini cross. Sì, novità di quest'anno della terza edizione è il corso di mini cross, parte pratica e teorica su un ovale, a cura di LMT Racing e Levi Racing Scuola Cross. Ringraziamo tutti i volontari dell'Associazione Genitori che si prodigano da settimana per la realizzazione di questo evento. Vi aspettiamo domenica 3 settembre a Torano Nuovo, in contrada Campodino, dalle 10 alle 13, pausa pranzo per tutti e dalle 15 alle 19 e 30. Grazie.